Montelabate, Vallefoglie, Cerreto Desi in zona arancione rafforzato da oggi fino al 4 maggio. Sildo Cucchielli scrive ad Acquaroli, solo confusione e difficoltà a revocare subito l'ordinanza. Centri commerciali naturali, a Fano quasi 70 mila euro dalla regione Marchi, in arrivo le mappe turistiche, la carta fedeltà per i clienti e un rimborso ai commercianti che hanno ristrutturato le attività. Ecco le panchine multifunzione che verranno installate ai passeggi di Fano, l'annuncio di Mirko Carloni che ha chiesto l'intervento ad Enel, in arrivo anche le telecamere per rendere più sicuro il piccolo polmone verde della città. Il comune di Fano ha presentato le strategie per la mobilità sostenibile al Via Uno Studio, per analizzare gli spostamenti di merci e persone e migliorare il benessere e la qualità dell'aria. Non conosce crisi il settore delle piante e dei fiori che oggi non si è mai fermato, nemmeno i tempi di pandemia ha aumentato anche nei giovani la passione per il giardinaggio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con i tre comuni delle Marche che da oggi fino a martedì prossimo tornano in zona arancione rafforzato. Un provvedimento che non piace al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, che ha scritto al governatore Francesco Acquaroli chiedendo di revocare l'ordinanza. Insieme a Tavuglia e Acqualagni erano già stati in zona arancione rafforzato da mercoledì 21 aprile fino a domenica scorsa, poi due giorni in zona gialla e un'ulteriore doccia gelata, una seconda ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli, con la quale ha stabilito che da oggi a martedì 4 maggio compreso, Montelabate, Vallefoglie, Cerreto Desi devono tornare in micro zona rossa. In questi tre comuni, due nella provincia pesarese e uno nell'Anconetano, persiste infatti un'incidenza superiore a 250 positivi settimanali su 100.000 abitanti. Varranno dunque tutte le misure previste per le zone arancioni, ma all'interno del territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti nei soli casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità come previsto nelle zone rosse. La decisione però non è piaciuta a tanti cittadini e ai sindaci che ritengono il provvedimento insensato. Io ho scritto una lettera ieri al Presidente della Giunta regionale, penso che non abbia senso, perché i dati oltretutto non sono aumentati di contagi, che i conti si fanno in un'area omogenea, quindi quella del compressorio pesarese, dell'Unione dei Comuni, dei sette comuni, o a livello provinciale, e che spero, e sono abbastanza convinto, che si possa revocare l'ordinanza. Anzi, prima si revoca meglio è, meglio se non si faceva per niente, perché ha creato non poche difficoltà nell'attività economica e produttiva, quando non c'è la necessità, perché qui non c'è nessuna emergenza, di fare, nel momento in cui si va in zona gialla, delle forzature che spero vengano superate. Ucchielli poi, dopo la lettera inviata all'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, è tornato a ribadire l'importanza di aprire un punto vaccinale nell'ex mensa dell'area industriale di Talacchio, una struttura che ha spazi interni adeguati ed un grande parcheggio, nella quale sono già stati eseguiti dei sopralluoghi da parte dell'Asur, che ha dato il via libera dal punto di vista tecnico a quel sito. Ora, la decisione definitiva aspetta la regione. Io nel colloquio che ho avuto con il Presidente della Giunta regionale, ieri gli ho ribadito che far spostare 50.000 persone dalla piazza di Montecchio, tutta quest'area, a Pesaro è un errore. Quindi spero che quel luogo che è bellissimo, che è a totale disposizione della regione, che è di proprietà del Comune, che ha un parcheggio immenso, è il luogo ideale per fare i vaccini giorno e notte. Nel giro di un mese o due possono fare tutti i vaccini che vogliono, perché quello è un luogo idoneo, ideale, perfetto per evitare spostamenti che, come si sa, creano disagio, creano incidenti, creano inquinamento. Quindi spero che l'accogliono. E' ancora alto il numero di decessi legati al Covid nelle Marche. Nell'ultima giornata sono morte 10 persone, tra cui 4 anziani della provincia pesarese. I nuovi positivi sono 301. La provincia più colpita torna ad essere quella di Pesaro Urbino, con 86 casi, seguita da Ascoli Piceno. Negli ospedali della regione ci sono 17 ricoveri in meno rispetto a ieri. Calano i pazienti in terapia non intensiva e in semi-intensiva, mentre sono in leggero aumento quelli in intensiva, che ad oggi complessivamente sono 68, quindi due degenti in più nelle ultime 24 ore. Ancora cronaca, una fanese di 15 anni rimasta ferita in un incidente stradale autonomo che si è verificato oggi intorno a mezzogiorno lungo la Flaminia Cucurano di Fanno. La ragazza era a bordo di uno scooter e stava procedendo in direzione Calcinelli, quando all'altezza di Via Sorelle Morelli, l'auto che la precedeva ha rallentato per svoltare a destra. Così la giovane ha pensato di superare il mezzo, ma quando si è accorta che dal senso di marcia opposto stava provenendo un furgoncino, ha rallentato. E forse anche a causa del manto stradale scivoloso per la pioggia, ha perso il controllo dello scooter finendo a terra. La quindicena è stata soccorsa dal 118 ed è stata trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia locale di Fanno per i rilievi di legge. Grazie a una sinergia tra pubblico e privato, il Comune di Fanno si è aggiudicato il bando regionale sui centri commerciali naturali. In arrivo 67 mila euro che verranno utilizzati per la segnaletica turistica, per i commercianti che hanno ristrutturato le attività, ma anche per realizzare una carta fedeltà, ovvero una tessera che andrà a vantaggio dei clienti che faranno i loro acquisti nei negozi della città. È stato collocato al primo posto con un finanziamento di 67 mila euro il progetto presentato dalla città di Fanno che ha partecipato al bando regionale sui centri commerciali naturali. Ad essere premiate sono state soltanto sei idee lanciate da altrettanti comuni delle Marche. L'amministrazione con l'aiuto dell'Ufficio Europa ha presentato la proposta in sinergia con la Confesercenti e con Fanno al Centro la nuova cooperativa che riunisce 14 attività del Centro Storico per un impegno di spesa di 137 mila euro. Sì, è un esempio di collaborazione e di sossidiarietà sia verticale tra amministrazione che orizzontale con gli imprenditori e quindi credo che sia un esempio da seguire anche per altri progetti ancora più significativi che vorremmo fare sulla città di Fanno. Sicuramente oggi intanto diamo un primo segnale di chi tra regione, comune e anche imprenditori credono nel Centro Storico. Riqualificazione, digitalizzare alcuni servizi e soprattutto fidelizzare i consumatori all'utilizzo del Centro Storico come vero centro commerciale naturale. È il luogo in cui non bisogna perdere l'abitudine ad andare oltre che per cenare o per andare in un bar ma anche per andare a trovare le botteghe, i mestieri, i negozi, gli acquisti. Noi dobbiamo fare in modo che il Centro Storico sia vivo e il rischio di desertificare il Centro Storico è molto forte e quindi sta a noi fare delle politiche che siano in grado di rivitalizzarlo. Dobbiamo fare in modo, ha proseguito Carloni, che tornino ad essere di modo alle frequentazioni e gli acquisti nel Centro Storico e soprattutto che ci sia la volontà da parte degli imprenditori di riaprire i negozi. Il Vicepresidente poi ha parlato di altri bandi relative all'accoglienza e all'ampliamento dei servizi tecnologici come la realtà virtuale, una delle nuove frontiere del turismo. La legge Borghi è una legge quadro che prevede la rivitalizzazione sia dal punto di vista commerciale e artigianale anche dal punto di vista dei servizi digitali, della tecnologia informatica e quindi con un finanziamento molto importante ma soprattutto anche l'interazione tra pubblico e privato per creare l'albergo diffuso, per creare ospitalità. Quindi metteremo a valore una serie di bandi che finanzieranno la rivitalizzazione dei nostri bellissimi borghi che purtroppo stanno vivendo una fase di declino e di abbandono. Intanto, grazie al bando presentato questa mattina, al Comune di Fano saranno destinati 15.000 euro che verranno utilizzati per installare entro l'anno una nuova segnaletica promozionale all'interno del perimetro urbano. Il costo totale però sarà di circa 26.000 euro. Gli altri 52.000 verranno ripartiti tra le attività commerciali che complessivamente hanno speso 110.000 euro sia per eseguire ammodernamenti e ristrutturazioni interne o esterne sia per lanciare una Fidelity Card che fidelizzerà i consumatori stimolandoli a ritornare nei punti vendita del centro storico. Riguardo appunto l'installazione di una segnaletica turistica nella città, tra l'altro prevista nel piano strategico di AIAR che darà la possibilità di installare delle plance planimetriche all'ingresso della città e delle indicazioni per raggiungere i punti di interesse turistico più importanti. Insomma, questo progetto è stato finanziato nel suo contesto totale per il 50%. Questo significa che in questo periodo così delicato a questi imprenditori che hanno creduto comunque di investire ancora nella città arriverà una parte dell'economia e quindi saranno finanziati da parte pubblica così come sarà finanziato il nostro progetto. La carta a fedeltà invece sarà pronta entro due mesi. Il consumatore che acquisterà nelle attività che aderiscono al circuito otterrà dei punti che potrà riutilizzare nei vari negozi. Potrà andare a comprare un paio di scarpe o un maglione potrà poi dopo andare a consumare i punti acquisiti magari andando a fare massaggi oppure andando in palestra oppure andando a teatro oppure semplicemente andando a comprare un altro prodotto. L'altro è un applicativo, un vero e proprio portale in cui tutte le attività che partecipano al centro commerciale naturale vanno alla propria vetrina potranno dialogare con i propri clienti potranno proporre offerte scontistiche e ci sarà una parte dedicata che oggi non se ne può fare a meno anche alla possibilità di acquistare. La Regione, su proposta dell'assessore Giorgia Latini ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di contributi straordinari agli istituti scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria. I contributi alle scuole variano per numero di iscrizioni fino a 20.000 euro per istituti fino a 800 studenti iscritti fino a 30.000 per quelli fino a 1.500 iscritti fino a 40.000 euro per istituti con oltre 1.500 alunni. Per venerdì 30 aprile è stato indetto uno sciopero del comparto agricolo. Nelle Marche i sindacati hanno organizzato un presidio ad Ancona a partire dalle ore 10 davanti al Palazzo della Regione. L'obiettivo sarà quello di protestare contro le iniquità contenute nel decreto sostegni ma anche di chiedere a Governo e Parlamento di modificarlo. I lavoratori di questo comparto, si legge in una nota, hanno continuato a garantire il cibo sulle tavole degli italiani eppure sono stati colpiti pesantemente dalle conseguenze del Covid e anche delle calamità. In particolare vanno attenzionati gli operai degli agriturismi, soprattutto donne totalmente fermi da almeno sei mesi e quelli del comparto vitivinicolo che producevano per hotel, alberghi e ristoranti. Non si chiede solo l'introduzione di un bonus per i lavoratori stagionali ma anche il riconoscimento per lo scorso anno delle stesse giornate di lavoro del 2019. Torniamo a Fano. L'area dei passeggi diventerà sicura e tecnologica. Grazie a una richiesta avanzata da Mirko Carloni verranno installate telecamere di videosorveglianza e servizi digitali. Panchine intelligenti, servizi digitali e telecamere sono le principali novità per i passeggi di Fano annunciate oggi in comune da Mirko Carloni. Il vicepresidente della regione Marche ha chiesto personalmente ad Enelix di riqualificare l'intera area prevedendo la possibilità di utilizzare internet e ricaricare i dispositivi tecnologici. Alcuni di questi servizi verranno incorporati nelle panchine multifunzione in grado di coniugare la modernità in tutti i contesti urbani. Tra le caratteristiche rientrano i moduli fotovoltaici di una potenza di 110 watt, ricariche sia wireless che USB, internet 4G con raggio d'azione di 4-20 metri e poi sensori per la temperatura, l'umidità e la pioggia. In quest'ultimo caso si spegne la panchina. Previsto anche un sistema di raffreddamento ad aria condizionata con 4 ventilatori con temperatura minima di accensione a 35 gradi centigradi e una luce ambientale di colore bianco con raggio di 2 metri. Sono ancora da stabilire le tempistiche dell'intervento ma intanto è stato eseguito un sopralluogo per definire i dettagli che daranno maggiore decoro a questo piccolo polmone verde tanto amato dalla città. Devo ringraziare il vicepresidente della regione che si è fatto tramite perché è un intervento che mette in cantiere Enel X che gestisce quell'area e porterà delle innovazioni importanti che renderanno più sicure e più gradevole l'area dei passeggi cioè delle innovazioni tecnologiche che riguardano la videosorveglianza riguardano l'automazione riguardano anche l'installazione di panchine di ultima generazione ultramoderne che si alimentano con energia solare dotate di wifi e tutta una serie di servizi. E' chiaro che a questo affiancheremo anche ulteriori iniziative dell'amministrazione comunale per rendere ancora più accogliente quindi anche questa è una bella risposta è un incontro tra la regione che si è fatta tramite con Enel X e l'amministrazione comunale. Il Comune di Fano ha presentato il piano urbano della mobilità sostenibile attraverso questionari online ma anche analisi sugli spostamenti di merce ai cittadini e riuscirà a capire quali strategie utilizzare per migliorare la qualità dell'area e aumentare il benessere dei fanesi. Filippo Pucci Fin dal suo primo insediamento l'amministrazione fanese ha posto sempre come punto fermo l'attenzione sulla mobilità sostenibile che ha visto non solo opere strutturali in alcuni tratti della città ma anche la pianificazione di futuri interventi. Questa mattina durante una conferenza stampa è stato presentato il PUMS il piano urbano della mobilità sostenibile che analizza e studia lo spostamento delle persone e delle merci per verificare l'impatto ambientale e l'emissione delle CO2. L'obiettivo di questo progetto è quello di analizzare nell'arco di 2, 5, 10 anni le strategie da intraprendere aumentando così il benessere della città. Quindi che cos'è il PUMS? Noi cerchiamo di mettere tutte le politiche che abbiamo fatto fino ad oggi come per esempio dal 2017 è stato approvato il piano dei detinerari ciclabili tutti i lavori che stiamo facendo sulle zone 30 anche la riorganizzazione della sosta è all'interno di questa strategia generale che quindi ci aiuta a mettere insieme tutti questi tasselli di un puzzle e quindi ci darà un'analisi oggettiva e anche delle proposte con cui l'amministrazione dovrà poi fare delle scelte più consapevoli e più corrette andando nella direzione della sostenibilità della lotta al cambiamento climatico e quindi incentivare l'utilizzo sempre di più dei mezzi sostenibili. Lo studio del PUMS parte oggi la fase di analisi durerà circa 4 mesi complessivamente per l'elaborazione di tutto il piano ci vorranno circa dagli 8 ai 10 mesi quindi ci riaggiorneremo più avanti per insomma vedere come come si svilupperà la cosa. Ci saranno anche dei momenti partecipati dove appunto si coinvolgeranno gli stakeholders i cittadini le associazioni per fare questo percorso insieme. La collaborazione tra autorità italiane e cilene ha consentito uno storico rimpatrio di circa mille cactus sequestrati dai carbinieri forestali di Ancona e destirpati dal 2015 al 2019 nei deserti cileni da due trafficanti di piante protette residenti nelle province di Ancona e di Rimini scoperta una rete composta da almeno 19 trafficanti e collezionisti stranieri italiani con un traffico diretto principalmente verso l'Asia le piante recuperate sono state affidate in un primo momento all'orto botanico dell'Università di Milano ma poi è stato deciso il rimpatrio con la reintroduzione nel loro ambiente naturale per riparare il danno subito dai nostri climi secondo i dati diffusi dal WWF il traffico legale di cactus ha interessato oltre 100.000 piante negli ultimi 4 anni per un valore stimato di 3 milioni di dollari sarà per il tempo trascorso a casa o forse per la necessità di essere più autosufficienti resta il fatto che da un anno a questa parte è aumentata la voglia di dedicarsi al giardinaggio e alla cura di piante e fiori una passione che sta coinvolgendo anche molti giovani Angelica Panzieri non conosce crisi il settore delle piante e dei fiori che non si è quasi mai fermato nemmeno in piena pandemia periodo in cui tantissime persone hanno riscoperto l'importanza del fare giardinaggio e del prendersi cura delle piante e dei fiori è così che il covid ha cambiato le abitudini degli italiani il giardinaggio rientra proprio tra quei nuovi hobby scoperti durante il lockdown e proseguiti poi anche dopo la riapertura tolto un primo periodo iniziale dove siamo rimasti chiusi e dove le cose non sono state semplici neanche per noi ci siamo reinventati con il servizio delle consegne a domicilio e abbiamo porato un po' di fiori e colori in tutta la città e poi d'altronde la produzione non si ferma noi siamo produttori direttamente di tutto quello che riguarda le piante fiorite e quindi siamo ripartiti nel cuore della primavera cercando di dare un po' di colore e un po' di gioia alle persone poi vista la fortuna che ci ha dato il governo lo stato di rimanere aperti siamo riusciti comunque nel rispetto delle normative anti-covid a svolgere in sicurezza il nostro lavoro e ad accogliere in sicurezza proprio tutti i nostri clienti e c'è stato proprio nell'ultimo anno un forte trend alla riscoperta della natura quindi della cura gestione del giardino del balcone e anche degli spazi interni quindi il trend positivo è proprio qui e la novità sta nelle piante tropicali originale di tutto il mondo oltre 150 tipologie di piante grasse provenienti anche di essere da tutto il mondo e siamo riusciti a portarle proprio qui all'interno del garden e poi come vedete tutto il mondo del fiorito alle mie spalle per allestire i balconi o i giardini le grandi novità e poi tra le più richieste tra i nostri clienti sono sicuramente le cose più particolari tra di queste posso mostrarvi il marimo che è un'alga giapponese proveniente dal lago di Akan è un'alga molto particolare che ha questa forma sferica e dietro di lei c'è questa leggenda romantica che narra proprio di questa storia di innamorati provenienti dal Giappone le quali famiglie appartenenti a due clan rivali non approvavano questa relazione allora loro forti del loro amore decisero di scappare ai piedi del lago Akan e di donare il loro cuore trasformandolo in marimo e di tanto in tanto risalire in cima al lago per prendere una boccata di espiro e questo è proprio un movimento che compie naturalmente il marimo e questo che gli dà poi questa forma sferica particolare molto richieste sono anche le piante grasse siamo riusciti a portare una selezione con oltre 150 tipologie di piante grasse differenti una tra le più particolari e tra le mie preferite è sicuramente il mirtillo cactus una pianta grassa originaria del Messico che in natura produce dei frutticini con il sapore simile a quello del mirtillo è cambiata la sensibilità dei clienti abbiamo clientela sempre più giovane le persone giovani hanno concepito il verde come necessità e come benessere e questo benessere è dato dal fatto di avere piante comunque dentro casa quindi all'interno di un ambiente che noi viviamo e siamo stati costretti a vivere 24 ore su 24 sempre di più un giardino commestibile quindi portare in casa cose che ci fanno come dicevo stare bene ma che ci nutrono oppure delle piante di banano in casa per farci sognare e questo è tutto il beneficio che ci porta la natura il servizio è stato fondamentale in questa situazione il servizio e soprattutto la professionalità e i consigli che potevi dare cosa che il internet non ti dà perché molte volte le informazioni non sempre corrispondono al vero torniamo a Vallefoglia perché oggi il sindaco Palmiero Ucchielli ha incontrato un cittadino che nei giorni scorsi aveva trovato un portafogli contenente circa 800 euro negli uffici comunali di Colbordolo e senza esitare un attimo aveva chiesto ai dipendenti comunali di rintracciare il legittimo proprietario si tratta di Marco Lapì che il sindaco questa mattina ha voluto incontrare per conoscerlo personalmente e omaggiarlo con un attestato di riconoscimento come esempio di onestà in una società frenetica individualista come quella attuale dove i valori più sani sembrano essere scomparsi ha commentato Ucchielli Vallefoglia si contraddistingue per essere una città onesta popolata da brava gente con sani principi e senso civico per questo ha concluso il sindaco a nome dell'amministrazione comunale abbiamo voluto riconoscere il nostro cittadino come esempio che fa onore alla nostra giovane città e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni eccolo qua 338 49 68 250 l'informazione invece torna domani mattina insieme al nostro direttore Marco Ferri e al commento la stampa buona serata grazie a tutti a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti